Eeeh, bella ragazzi qui Xwillipi ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su gt5 online E indovinate un po' dove siamo, non si vede assolutamente, vero? Spero di sì Anzi, facciamo una cosa, se vi mettete le mani davanti agli occhi, non vedete dove siamo Intelligente come cosa Ma comunque sia, ormai avete visto dove ci troviamo? Ci troviamo sulla nostra poltroncina degli acquisti E questo perché è uscita una nuova auto E visto che il nostro Mino è un appassionato di auto, se le compra tutte E oggi ragazzi, la Rockstar Games ha fatto uscire un'auto Mascol, una Mascol Car, la D-Class Tulip Allora, sinceramente, a me sta macchina non mi dice niente È la D-Class, quella standard che abbiamo già sul gioco Solamente che la D-Class standard ha due porte Tre due porte e due posti Mentre questa ha cinque posti Questo è il cambiamento Ma comunque sia, adesso andiamo a leggere immediatamente la descrizione Che come al solito va a letta Ma cosa so ste cose che volano? Riesci a credere che una cosa così bella Un tempo veniva costruita e ventuta per l'equivalente Dello stipendio di un operaio medio? Sì, gli anni 70 sono stati un periodo folle Ma alla fine, il punto qual era? Fortunatamente per te la civiltà si è rimessa in sesto E oggi i buoni spesa Elargiti agli operai servono a poco Se tu e il resto dell'1% usate le fish della partita a poker dell'altra sera Per accaparrarvi un simpolo dello chic da classe operaia dei vostri nonni Morale della favola Prima sta macchina ti costava 1300 euro Adesso ti costa 718 mila euro Che poi su dollari ma vabbè Comunque sia, andiamo a prendere la bianca E ovviamente ce la facciamo arrivare al nostro garage del livello 3 Tanto i soldi ce li abbiamo qua, no? Stipendio medio cosa? Il nostro mino guadagna un botto di soldi Quindi ragazzi mi raccomando superiamo soltissimamente i 150 like Se volete altri video su GTA online Mi raccomando controllate che l'ex è andato Cliccatelo per benino perché non diventa blu E inoltre condividete questi video Grazie su tutti i vostri social e iscritti al canale Per non perdervi i prossimi video Se lo fate siete dei grandi Ebbene ragazzi Mentre aspettiamo l'arrivo dell'auto Voglio invitare tutti a seguirmi su Instagram Perché dal prossimo video Quindi quello di domani Vorrei salutare le ultime persone Che mi hanno seguito su Instagram Quindi qua sotto voi trovate il link Per seguirmi su Instagram E nel video di domani Le ultime 3-4 persone Saranno salutate nel video Quindi ragazzi mi raccomando Seguitemi su Instagram Link qua sotto Confermiamo che la tua nuova Sè È arrivata Allora vi dirò È molto strana A me non Non fa impazzire più di tanto ecco Quindi boh Ascoltiamo un attimino il sound E andiamo a modificarla Eh Classe Tulip Maschel Oh yes ragazzi Armature Noi non le mettiamo I freni Da gara Ovviamente Paraurti Allora anteriore abbiamo Verniciato Che non cambia nulla Se non che è verniciato Splitter basso Splitter basso Verniciato Splitter sportivo Sportivo verniciato Tuning Ah Facciamo Mettiamo quello tuning Dai facciamo l'ignoranza più totale Su questa macchina Verniciato Va bene Non cambia nulla però Ok Motori Ovviamente Al massimo Le marmita Abbiamo la marmita dritta Ok Guarda come scoppietta Da gara No da gara Punta cromata Da gara Non male E poi abbiamo Belle placcate cromate Questo mi piace Dai mettiamola Gofani Allora Ma intanto fa un sound Regà Pazzesco st'auto Con kanji Ok Oppure abbiamo Con la presa d'aria Doppia De classe su misura Ok Con k Mamma mia Con k Alta C'è ignorantissima Poi abbiamo Dai Che esce fuori qua Il cosino Questo qui è bello Regà Oppure addirittura Oh regà Questo qui è particolare Però eh K Presa d'aria Tripla E anche i kanji Mettiamo questo qui K Presa d'aria Tripla Dai Con il coso che c'ha Dominic Toretto No Klaxon Vabbè Klaxon Non è anche a parlarne Luci Fari Allo xeno Kit neon Schamaneon Al massimo Poi andiamo a mettere il colore Però non so perché ci avevo cliccato Livrea Abbiamo anche la livrea Ok Strisce classiche nere Strisce classiche bianche Ma non si vede Strisce da corsa Dai non male Fuorilegge Ok Non so cosa abbia questa livrea Da fuorilegge Il buono Il cattivo Il brutto Va bene Ma sapete che forse era un film sta roba Il buono Il brutto Il cattivo Mi sembra di sì Poi abbiamo questa qui Che è una marca Ok Abbiamo quest'altra roba Bella Ok Andiamo a mettere il buono Dai vediamo un attimino Verniciatura Allora colore principale Vediamo Ovviamente tutta la carrozzeria Il colore è sempre un po' Eh Delicato da scegliere Però Vorrei vedere un attimino Cosa cambia il colore Secondario Così almeno posso farmi Un'idea Ah tipo solamente Le rifiniture Diciamo Ok Allora io direi di farla Così un blu racing Come colore Secondario Buttarci su un Sinceramente Non saprei Il bianco vi dirò Non starebbe neanche male Quindi quasi quasi Lo lascio bianco Perché guardate Cioè ci sta bene alla fine Nero Blu E bianco Tra l'altro Il perlacente sfumo Un pochettino Il nero Quindi ci sta Secondo me Lasciamolo bianco Dai Spoiler Ragazzi Spoiler Lip Ok piccolissimo Spoiler Ducktail Spoiler Basso Alettone Drift Protuning Protuning Verniciato Mettiamolo da drift Sospensioni Ovviamente Andiamo ad abbassarle Che c'è Raga Basta tantissimo Trasmissioni Al massimo Turbo Lo mettiamo Ruote Ma raga Sapete che quasi quasi È diventata avere un'auto Da drift Guardate come le ruote Si stanno Piegando E questa qui secondo me Drifta per bene Ovviamente Low ride L'ignorantata del secolo Raga Quella con il dollaro Yes Ovviamente è nero Beh Così dai Forza ragazzi Perfetto Gomma antiproiettilesia Il fumo Nero Cioè raga Abbiamo questa coppietta Spettacolare Nero Blu E bianco Bello Mi piace un po' To st'auto Finestrini Mettiamoli Molto oscurati E raga Cioè da un'auto Che praticamente Era il nulla più totale Il neon Lo lascerei bianco Io Da un'auto Che era il nulla più totale È diventata un'auto Che secondo me Adesso È bella da vedere Cioè Prima con quel bianco Tutto vuoto Non lo so Era brutta Adesso è figa Ok andiamo a provarla Sono curioso di vedere Come drifta st'auto E ok ragazzi Qui abbiamo la nostra Nuovissima De classe tulip Devo dire che Era messa davvero male Di base Però adesso È un'auto Di tutto rispetto Sinceramente A me piace L'auto che ho tirato fuori Sto blu Non è male Il bianco Il nero Tutto ben accoppiato Andiamo ad ascoltare Il sound Adesso Una volta che è cambiato Va male Gli interni Invece sono Quelli classici Di una Mustang Su GTA Con l'unica differenza Che qui abbiamo Sto coso davanti E quindi Eh Potrebbe essere Un po' un problema Però Eh Tra l'altro Sapete che non avevo Mai fatto caso Al Al fatto che queste cose Si girassero Sul motore Bo sinceramente Io le ricordo sempre Statiche ferme Adesso bo si girano Non so se è un'animazione Che hanno messo da poco Eh Però vabbè Cominciamo Andiamo un attimino avanti E vediamo La velocità Di quest'auto È una Mustang Quindi non mi aspetto Delle prestazioni Di una Ferrari Ovviamente Però già comunque Per essere una Mustang Questa velocità Mi sembra Tutto Di tutto rispetto Cioè Bella 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 Le sterzate Invece Eh Eh Facciamo il nostro Classico test In autostrada Dai Ok comunque Questa qui Già mi sembra La velocità massima Per essere una Muscle Non è niente male Cioè A livello di prestazioni Ci sta Vediamo la frenata Adesso Vai di frenata Vediamo Buona Niente male Anche la frenata Tenuta Invece Beh la tiene Molto bene La strada Cioè guardate Come la recuperi Facile Però visto Che questa qui È una Mustang Se c'è una cosa Che voglio fare È questa qui Non l'avevo mai provata Sta cosa Pazzesco Che poi se uno è bravo Riesce anche a tenerla su Vai 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 Wow Eh dai Un po' di strada L'abbiamo fatta Allora Abbiamo già visto Che sterzata Non è il massimo Quindi una cosa Che mi viene logica È quella Di provarla Interappata Visto che si è abbassata Veramente tantissimo È sempre un'auto Da drift Bella e buona Wow Attenzione che qui Mi ha fatto una driftata Bellissima Proviamone un'altra Bella Devo dire che Derappa veramente Toc Cioè Vabbè basta vedere Come si sono messe le ruote Cioè Allora se devo dire Comunque Se non vengo interrotto Un'altra volta Da eventi paranormali Secondo me Quest'auto Non è niente male Cioè per quel che costa Alla fine Un milione Due Con tutte le modifiche Vi portate Namaskol Che comunque È ignorante È veloce Diventa anche Bellina da guardare Se è modificata bene Quindi se volete Un'auto Per andare in giro A cazzeggiare Con gli amici Quest'auto È ottima Quindi se avete soldi Da buttare Sostanzialmente E volete Passarvi Quei minutini In free mode Così a cazzeggiare Questa è L'auto Perfetta Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Oggi abbiamo Acquistato E modificato La De classe Tulip Che era veramente Un qualcosa Di inguardabile Ma adesso È diventato Un'auto Di tutto rispetto Quindi mi raccomando Controllate Il like Se è andato Cliccatelo Per venino Finché non diventa blu E inoltre Condividete questo video Mi ringrazio Tutti i vostri social Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Quindi se volete Passare dal mio profilo Instagram Da pagina di descrizione Sul il tutto Bella raga